Noi come Comune e come Assessorato alle politiche sociali abbiamo veramente a cuore il tema del benessere e della tranquillità delle persone che ovviamente la dobbiamo costruire insieme perché a fronte di situazioni che sono presenti come in tutti i territori di tentativi, di abusi attraverso i furti, attraverso forme di aggressione che possono arrivare dobbiamo cercare di fare il possibile per prevenire. È stata presentata questa mattina alla Sala della Concordia del Comune di Fano una conferenza sulle iniziative di antitruffa ai più anziani che spesso vengono ingannati da soggetti intenti proprio a rubare beni o addirittura soldi. L'Assessorato ai Servizi Sociali quindi ha messo in atto nel corso dell'anno diversi progetti tra cui Non Perdiamoci di Vista gestito dall'Associazione Hauser di Fano che ha come obiettivo quello di creare una rete di sostegno per dare ascolto e sostenere persone anziane, sole e senza aiuto da una rete familiare e a degli incontri rivolti ad evitare truffe nei confronti dei soggetti deboli. Gli appuntamenti verranno organizzati nelle sedi dei club anziani del territorio e vede la piena collaborazione di tutte le forze dell'ordine. Il primo incontro è previsto per venerdì 17 novembre alle ore 21 al Centro Sociale di Ponte Sasso, venerdì 24 novembre alle ore 16.30 al Centro Sociale del Foro Boario, mercoledì 29 novembre alle ore 15.30 al Centro Sociale di Sant'Orso, mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30 al Centro Sociale Cicogna e martedì 12 dicembre alle ore 15.30 al Club degli Orti di Chiaruccia.